6 persone di cui 13 Rignola sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dell'Aquila su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia ed eseguita dalla Polizia per la grave rapina commessa il 24 marzo del 2022 ai danni dell'Istituto di Vigilanza Ivri Sicuritalia di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti da un gruppo armato composto da circa 20 persone. L'assalto ricostruiscono gli investigatori, venne messo a segno con modalità paramilitari con l'utilizzo di armi corte e lunghe anche fucili mitragliatori nonché mediante l'abbattimento con un escavatore appositamente trasportato della recinzione perimetrale della sede della società e la demolizione della parete esterna della sala conta attraverso la quale i malviventi entrarono all'interno della struttura. Nell'occasione vennero esplosi decine di colpi di arma da fuoco per impedire qualsiasi reazione da parte non solo delle 14 guardie giurate in servizio in quel momento anche di eventuali ulteriori soggetti presenti. I malviventi riuscirono ad asportare quasi 5 milioni di euro in contanti presenti in quel momento nella sala conta per commettere la rapina. I malviventi bloccarono tutta l'area adiacente l'Istituto nonché l'intero raccordo autostradale Chieti-Pescara di fatto paralizzando per ore il traffico in entrate uscita dalle due città sia cospargendo il manto stradale di Chiodi a quattro punte sia posizionando di traverso numerosi mezzi pesanti appositamente dati alle fiamme creando ben otto blocchi stradali. Nel corso di tutta l'azione criminosa alcuni automobilisti sotto la minaccia delle armi vennero rapinati dei propri mezzi. I reati contestati agli indagati sono rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, simulazione di reato tutti aggravati dal metodo mafioso. Oltre alle perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria durante la fase esecutiva e nell'area di Cerignola si è reso necessario procedere ad ulteriori perquisizioni di iniziativa alla ricerca di armi e esplosivi.